Almeno una recensione su tre online di ristoranti e alberghi sarebbe falsa e oltre ad ingannare i consumatori alimenta un sistema di ricatti ed estorsioni ai danni degli esercenti. Il dato è fornito da Fipe Conf Commercio Toscana dopo un mese di monitoraggio dei principali siti specializzati. Ad innescare i commenti fasuli possono essere le stesse agenzie che pubblicano le graduatorie di gradimento oppure fornitori che non hanno ricevuto nuovi ordinativi. Un sistema perverso che prospera sull'assenza di norme. I gestori dei siti non sono responsabili dei contenuti non veritieri o diffamatori e quindi non eseguono alcun controllo su chi li pubblica. Fipe chiede quindi in primo luogo una legge adeguata. Però ben consci del fatto che per fare una legge ci vuole un pochino di tempo e magari per farla bene ce ne vuole ancora di più, noi cerchiamo anche soluzioni di autoregolamentazione con accordi della federazione di gestori di questi portali. Ai primi di settembre Fipe incontrerà i rappresentanti di TripAdvisor che aprendo il confronto ha mostrato di riconoscere implicitamente l'esistenza del fenomeno. Anche la risposta degli esercenti è stata buona visto che si stanno moltiplicando le segnalazioni di calugne e giudizi infondati. Ma come riconoscere una recensione falsa? Basta poco per verificare se i giudizi sono estremamente ripetitivi, se sono tutti condensati nell'arco di due giorni e poi il silenzio per tanto tempo, se questi giudizi sono riferiti a periodi di non attività oppure non hanno alcun riferimento puntuale. Insomma con un po' di attenzione le false recensioni sono smascherabili anche se la battaglia può sembrare impari. Per pubblicare decine di falsi commenti al giorno ci sono giovani che si accontentano di pochi euro.